Chico Blengini un anno fa di questi tempi allenavi un'ottima latina, dopo un anno ti sei ritrovato proiettato con la nazionale, con Macerada e con una nomination ai Gazzetta Awards come miglior allenatore. Sì, sorprendente per me, non me l'aspettavo, è una cosa che dire mi inorgoglisce molto e persino riduttivo, sono molto contento, sono contento di essere inserito con questa nomination in un elenco di persone molto conosciute, molto prestigioso come elenco e quindi questo non può che darmi grande soddisfazione, ma credo che di questo vada dato merito a chi mi ha dato fiducia nell'assegnarmi degli incarichi così prestigiosi e ai giocatori che hanno fatto le partite, per cui i risultati delle squadre in cui ho allenato e sto allenando sono quelli che determinano la visibilità anche di un tecnico, se i risultati non vengono è più difficile che questo accada, i risultati vengono perché i giocatori giocano molto bene e quindi ringrazio per questo tipo di cosa, soprattutto ripeto, chi mi ha dato fiducia nell'assegnarmi gli incarichi e i giocatori che hanno fatto le prestazioni, che mi hanno fatto guadagnare questa nomination. Infatti in un certo senso è una doppia nomination, c'è anche la squadra. Certo, ma questo è doveroso, nel senso che la squadra, in quanto squadra nazionale, ha fatto questo risultato straordinario, se vogliamo anche per molti sorprendente, della qualificazione con grande anticipo all'Olimpia del Rio 2016 e questo al di là di tutto è una cosa che ci inorgoglisce molto, ce la teniamo ben stretta e ne siamo veramente contenti. Grazie.